In compagnia di Teddy dello 081 Garage 2016 che vi ha sorriso? Sì, certamente è stato un ottimo anno per noi, anche se è stato solo il terzo anno, ma abbiamo avuto delle soddisfazioni incredibili che neanche noi speravamo potessero essere messi in atto. Gli amici che ci hanno raggiunto presso la nostra struttura sono sempre stati numerosi, sono sempre stati numerosi e hanno potuto anche loro comprendere il nostro spirito amicale che abbiamo verso sia le motociclette che verso tutte le persone che ci vengono a trovare. Infatti 081 Garage non è soltanto vendita e assistenza moto? Beh, questa è una cosa che viene automaticamente. Quello che ci ha spinto in questa avventura è stata la pure semplice passione per le motociclette, Harley Davidson in particolare e abbiamo visto che anche a Napoli probabilmente molti avevano bisogno di una nuova struttura ed un nuovo punto di incontro. Punto di incontro che noi settimanalmente, tutti giovedì, abbiamo una nostra Clubhouse dove ci incontriamo sia con i nostri amici che con i nostri clienti a parlare non solo di Harley Davidson, insomma ma di motociclette in generale. Studiate le nuove uscite, vedere delle nuove prospettive di viaggi e di novità che nel corso del 2017 vi daremo anche atto di questo. Ecco, il 2017 ci aspetta una stagione ricca di uscite, tante novità in sella alle voce Harley Davidson e tanti accessori da poter utilizzare per rendere ancora più originale la propria moto. Per il 2017 la gamma cataloghi si è ampliata e quindi conseguentemente anche gli accessori con delle novità in esclusiva. Allora appuntamento qui a Via Ponti Rossi 126? Certamente, anche il sabato mattina vi aspettiamo qui da noi dove sarà offerto un aperitivo a tutti i nostri amici. Grazie a tutti! Grazie a tutti!